Ciao carissimi, ultimamente tutti parlano dell'attentato che è successo a San Pietroburgo, è stato organizzato a San Pietroburgo in un caffè della città dove si teneva un incontro con il pubblico del noto blogger e scrittore russo-ucraino che si esibiva sotto il pseudonimo di Vladlen Tatarsky, in realtà lui si chiamava Maxim Jurevich Famin, era del 1982, nato nel 1982, quindi 41 anni soltanto aveva questa persona. Lui era nato in Ucraina, nell'attuale Repubblica di Donetsk e la sua storia è molto particolare perché la gran parte delle persone lo conosce come un esperto militare e corrispondente di guerra che sicuramente patteggiava per la parte russa e per le repubbliche di Donbass. Lui riusciva ad ottenere i materiali molto significativi e tanti suoi video venivano pubblicati, si diffondevano in rete e sicuramente faceva molto per portare le notizie dalla zona di guerra. Anche io spesso nel mio canale Telegram trattavo qualche informazione che arrivava da lui, soprattutto i video, meno magari materiale scritto perché lui era molto di parte, a volte poco obiettivo perché faceva chiaramente un'informazione più politica che legata alla realtà oggettiva. Lui intanto anche raccoglieva molti soldi per aiutare ai combattenti del Donbass. Bisogna ricordare che lui è stato uno dei primi che ha lanciato le campagne di raccolta fondi in Russia per aiutare ai miliziani del Donbass con i materiali, con le munizioni e anche con l'acquisto dei droni. Lui era molto seguito soprattutto sul territorio russo, aveva un canale Telegram che arrivava quasi a 600 mila iscritti, aveva un canale YouTube che però è stato bloccato da YouTube perché lui era chiaramente di parte e spesso le informazioni che portava erano anche denigratori nei confronti dell'esercito ucraino e dell'Ucraina in generale. lui ha scritto tre libri, io non ho letto nessuno di quei tre libri perché comunque a livello letterario, la qualità letteraria è sicuramente sua, non era all'altezza, diciamo che lui ha sfruttato il fatto che era noto come blogger, aveva tanti iscritti ai suoi canali e pubblicizzava i suoi libri, forse ha venduto qualche suo libro, insomma nella rete ho letto varie opinioni però non si può basare, non si può dire niente su un libro leggendo opinioni in rete perché la gente dice quello che le pare, però nell'ambito di critica letteraria in Russia ufficialmente non si dice quasi niente su questi libri. Su di lui si può dire una cosa che questo pseudonimo ad esempio, lui ha scelto lo pseudonimo di Vladlenta Tarsky, chi conosce un po' la cultura russa sa che Vladlenta Tarsky era il protagonista del romanzo La generazione P che è stata uno dei romanzi più importanti di scrittore russo Viktor Pelevin. In questo romanzo è un romanzo di genere postmodernista dove si racconta questa storia di persona che proviene dalla generazione degli anni 70 che improvvisamente scopre di essere in grado di creare dei ottimi slogan pubblicitari e quindi attorno a questa sua capacità si costruisce tutta la narrazione, è un romanzo molto importante a tratti divertenti, a tratti tragico, è un romanzo in cui si racconta in grandi linee la Russia degli anni 90 e la generazione degli anni 90 che si realizza all'interno degli anni 90. Sono i trentenni quelli che sono nati negli anni 70 e che negli anni 90 hanno tra 20 e 30 anni e quindi devono realizzarsi in questo mondo. ovviamente lui si sentiva affine a questo protagonista di questo romanzo e per questo questo signore che nella vita si chiamava Maxime Famine sia come blogger ha scelto questo nome di Vladlin Tatarsky. Cosa è successo e perché lui è morto? Sicuramente lui era nel mirino dei servizi segreti ucraini per una serie di motivi, a parte i servizi segreti ucraini nel mirino c'è chiunque ha un'opinione diversa da quella di Kiev, di ufficiale governo di Kiev e di oligarchi che sostengono Kiev. Per cui è molto facile finire nella lista nera dei servizi segreti ucraini. Però in particolar modo la vita e l'attività di Vladlin Tatarsky attirava l'attenzione dei servizi segreti ucraini perché lui prima di diventare blogger era un militare. Prima di diventare militare lui era rapinatore delle banche, come si dice. Quando si parla del suo passato di rapinatore di banche si esagera un po', in realtà una volta c'è stato un incidente dove lui veramente con un gruppo di amici hanno rapinato una banca ed è stato quando lui e questo gruppo di amici hanno aperto un business, una loro piccola fabbrica di mobili, loro producevano i mobili e a quanto racconta lui questo loro business è stato un po' soffocato dalle attuali autorità ucraine perché lui era ucraino nato in Ucraina sovietica nel 1982 e poi cresciuto nell'Ucraina indipendente che dal 1991 è stata indipendente. Lui abitava nella zona proprio che oggi si trova in guerra, zona del Donbass vicino a Donetsk in un piccolo villaggio. Lì in quel piccolo villaggio lui e i suoi amici durante il governo dell'Ucraina, quando Donbass non si era ancora staccato dall'Ucraina ufficialmente, loro hanno aperto questa fabbrica di mobili. Il loro business, come racconta lui, è stato soffocato dalla corruzione dei rappresentanti locali del governo perché tutti chiedevano pizzo, tutti chiedevano soldi, questa è una cosa abbastanza normale, bisogna dire, non solo in Ucraina ma in diversi altri paesi dell'ex Unione Sovietica dove purtroppo la prepotenza delle strutture governative spesso soffoca chi cerca di avviare il loro business, il loro affare. Quindi questo giovane uomo con i suoi amici hanno aperto una fabbrica, hanno cominciato a produrre quei mobili e poi si sono trovati con tutte le complicanze che li creavano i rappresentanti dell'amministrazione corrotta ucraina perché volevano insomma impossessarsi del loro business come spesso accade in varie repubbliche dell'ex Unione Sovietica quando c'è un business che funziona bene ci sono i rappresentanti del potere locale che usano tutti i modi possibili per prendere questo business, per portarlo via a chi lo ha avviato. Queste sono purtroppo, sottolineo, le realtà non solo ucraine ma in generale dell'ex Unione Sovietica soprattutto delle ex repubbliche. Questo ragazzo, giovane ragazzo con i suoi amici si è trovato quindi ad affrontare queste difficoltà dove contro di loro c'erano i rappresentanti del potere. In certo punto probabilmente stufi da questa situazione, anche un po' diselusi arrabbiati, loro hanno deciso di rapinare una banca, proprio la banca attraverso la quale questi personaggi poco onesti cercavano di mettere in difficoltà il loro business. Questa banca è stata rapinata, poi dopo loro sono stati arrestati e lui è stato condannato al carcere. In effetti si trovava in carcere, quando sono successe tutte le situazioni attorno al cambio anticostituzionale del governo in Ucraina avvenuto tra 2013 e 2014, quindi Euromaidan è ciò che è avvenuto dopo, e quando è scoppiato nel 2014 la guerra, proprio il conflitto tra Repubbliche del Donbass e il governo di Kiev, molti carceri sono stati abbandonati dai rappresentanti del potere di Kiev perché loro si sono scappati lasciando carceri e le persone che erano dentro a loro stessi, così anche questo Vladimir Tatarsky è rimasto nella situazione simile. Lui dal carcere è uscito, si è unito ai militari del Donbass che combattevano contro l'esercito di Kiev che nel frattempo è arrivato nel Donbass per massacrare la gente, i rivoltosi. Hanno cominciato a combattere, lui è combattuto tra le fila di varie unità, ha avuto promozioni, si è mostrato coraggioso, l'hanno anche premiato e in certo punto addirittura il capo della Repubblica Popolare di Donetsk ha cancellato la sua condanna di questo ragazzo perché lui sul campo di battaglia ha dimostrato di essere una persona diciamo onesta, una persona che era capace di sacrificare se stesso, proprio interessi, negli interessi della società e per questo motivo lui è stato ulteriormente promosso. Quindi dopo aver partecipato praticamente tutti gli anni della guerra del Donbass prima dell'intervento russo nel 2021 lui si è spostato a Mosca e da Mosca ha cominciato a condurre questo blog e si è trasformato dal militare combattente in un corrispondente combattente, cioè lui andava nel Donbass, raccoglieva le informazioni, raccoglieva i video, montava i video di notiziari, faceva molta propaganda, qua bisogna essere onesti perché lui si occupava proprio di lavoro ideologico anche, raccoglieva i soldi in Russia per i combattenti del Donbass, ovviamente con intervento russo lui era ben accetto anche dai russi, dalle forze russe, era sempre con loro, sempre raccontava, faceva dei video, riusciva ad ottenere video che gli altri corrispondenti facevano fatica di ottenere e poi soprattutto era, siccome era ormai un militare esperto che ha fatto quasi otto anni di guerra, lui era in grado di fare previsioni abbastanza realistiche soprattutto sulle strategie di battaglia sul campo. Quindi aveva una sua sicuramente preziosità come portatore delle notizie. Questo persona, questo corrispondente, chiamiamolo così blogger, lui era spesso anche sui canali televisivi russi, qualche volta ha partecipato a qualche talk show, era chiaramente anti-sistema dell'Ucraina di Kiev, cioè lui era un nemico e non lo nascondeva dell'Ucraina di Kiev, di Zelensky, prima di Zelensky di Poroshenko, era fortemente anti-occidentale e così via. Quindi la sua ritorica era abbastanza ideologica. Cosa è accaduto? Adesso da noi ci sono delle notizie, ovviamente come sempre il nostro mainstream occidentale, quando succede una cosa in Russia comincia a sparare qualsiasi bagianata pur di per primi dare una qualche notizia, anche se non è vera, magari se la inventano a tavolino, si leggono le cose anche abbastanza, a mio avviso, imprecise su questo caso, come ad esempio io ho letto che si è trattato di un attentato organizzato da un'organizzazione partigiana russa antiputiniana che adesso hanno cominciato a colpire luoghi pubblici e così via. In realtà, cari amici, si tratta di un attentato simile a quello che è stato organizzato contro Daria Dugina, contro la figlia di Dugin, del filosofo di estrema destra russa, quello che per sbaglio da noi in occidente chiamavano ideologo di Putin, che in realtà non era nessun ideologo e con Putin si sono visti probabilmente solo una volta all'interno di qualche evento dove Putin partecipava e c'era questo personaggio che si è fatto la foto con lui e poi mandava ovunque questa foto e tutti pensavano che lui è veramente ideologo di Putin, ma Putin non ha gli ideologi in questo senso, è una persona totalmente autosufficiente, anzi è lui che costringe gli altri a seguire le sue ideologie. Comunque Daria Dugin è stata uccisa con un'autobomba, se voi ricordate, così anche un attentato simile è stato organizzato contro questo blogger Vlad Len Tatarsky. L'ho organizzata una cellula delle spie ucraine, quindi si tratta sicuramente delle agenti della SBU, dei servizi segreti ucraini, che hanno organizzato questa azione, per questo loro hanno usato una persona, una donna, che si chiama Daria Trepova. Questa Daria Trepova in pratica cosa ha fatto? Lei si è recata presso questo bar a San Pietroburgo, lei stava a Mosca, però si è trasferito da Mosca a San Pietroburgo, è andata in questo bar e ha regalato, come dicono le persone che hanno partecipato, assistito a questa scena, lei ha regalato a questo blogger Vlad Len Tatarsky un busto di gesso, una statuetta che probabilmente rappresentava o lui o qualcuno, insomma, qualcuno a cui lui ci teneva. Non so se Putin o non lo so chi. Comunque ha regalato un busto di gesso, tanti dicono che era busto proprio di lui, di Vlad Len Tatarsky. Dentro questo busto probabilmente c'era una bomba, lui ha preso questo busto e poi questo busto esploso, lui è rimasto morto perché lì era ferita e anche la forza dell'esplosione erano incompatibili con la vita, in effetti come avete sentito ci sono state le vittime, parecchie persone sono rimaste ferite, anche le tipologie di ferite sono abbastanza insomma gravi, ci sono stati anche alcune persone note della vita, della movida di San Petroburgo o della vita culturale di San Petroburgo e subito qua in occidente hanno detto che si tratta di un'organizzazione dei partigiani russi che in Russia ci sono dei partigiani che cominciano a far esplodere le cose contro Putin. Cari amici, in Russia non ci sono partigiani, i russi sono abbastanza compatti attorno al loro leader nel bene e nel male, anche quelli che prima erano magari contrari o avevano sospetti nei confronti delle attività di Putin, oggi sono compattati attorno a lui perché questa è una caratteristica storica sia della Russia sia dei russi, loro vedono pericolo dell'Occidente e questa è proprio la storia russa, il pericolo arrivava sempre dall'Occidente a partire dall'invasione di Rece Pospolita, Polacca, poi numerose invasioni, si può ricordare i Cavalieri Teutonici, di nuovo i Polacchi che si aggregavano con altri imperi, le guerre prussiane, le guerre con i svedesi, poi c'erano le invasioni organizzate dal potere centrale dell'Occidente collettivo come ad esempio l'invasione napoleonica, l'invasione di Hitler e così via, quindi i russi proprio nel loro DNA hanno questo timore del pericolo che arriva dall'Occidente soprattutto nei momenti come questi, ovviamente questo timore viene anche abbastanza mantenuto dalla propaganda di guerra bisogna dirlo perché così come da noi qua in Occidente ci spaventano con l'orso russo, là c'è la propaganda che spiega a loro che devono aver paura dell'Occidente satanista, Occidente che ha perso tutti i valori, Occidente che va contro la cristianità, i russi sono molto ortodossi, sono molto fedeli alla loro linea della cristianità ortodossa e ovviamente quando loro vedono come l'Occidente è protetto da Kiev come succede oggi in Ucraina, manda i nazisti, i ragazzetti giovani nazisti e tutta la melma nazifascista che si dichiara atea oppure pagana e distrugge i luoghi importantissimi come ad esempio il primo monastero in assoluto nella storia di ortodossia cristiana, quello che si chiama Kievopichorska e Lavra dove adesso negli ultimi giorni abbiamo visto terribili violenze, ovviamente i russi vedendo tutto questo si sentono minacciati dall'Occidente, per questo motivo anche Vladimir Tatarsky e anche le persone che si occupano dell'ideologia dell'informazione trovavano un terreno già ben coltivato nel quale poter svolgere le proprie mansioni, il proprio lavoro. La signorina che l'ha ammazzato Daria Trepova, lei ha affermato che è stata avvicinata da un gruppo di quelli come lei chiamava giornalisti ucraini, quindi lei ha raccontato da alcuni suoi amici, alcuni vicini che lei era in contatto con questi giornalisti ucraini che le pagavano per fare alcuni commissioni, diciamo così, lei trovava qualche notizia, leggerava qualche notizia e poi dopo chiedevano di portare da un punto all'altro una cosa, questo è un classico tra l'altro modo di avvicinare una persona alla collaborazione, questo è chi bene o male è vicino ai servizi segreti, sa come funziona, come si trasforma una persona in un esecutore, prima lo avvicini con i soldi, quando capisci che quello per i soldi svolge praticamente tutto quello che gli chiedi, gli dici guarda c'è una persona che ti darà una borsa, potresti portare quella borsa in quel posto e lascialo lì, grazie, se vedi se questa cosa funziona, l'ho fatto una volta, due volte, tre volte, ormai comincia a fare in automatismo senza fare le domande e una di quelle volte in quella borsa probabilmente si troverà un'arma, un esplosivo che dopo farà saltare per aria qualcuno, ucciderà qualcuno e poi dopo una persona del genere viene abbandonata di solito dai servizi perché una persona usa e getta, in effetti questa Daria Trepova, questa persona che a mio avviso è proprio una ragazza stupida perché in una situazione del genere quando tu vivi in un paese che si trova in guerra con il paese, con i rappresentanti del quale tu sei in contatto, prendi soldi da loro per strani commissioni, insomma bisogna essere abbastanza stupidi per non sospettare qualcosa di strano in questa situazione. Bisogna dire che Daria Trepova non era russa, era ucraina, originaria di Ivano Franchivsko e sapete che ci sono tantissimi ucraini, milioni di ucraini che hanno immigrato dal loro paese e vivono in Russia, quindi il problema è legato anche al terrorismo ucraino in Russia, è legato al fatto che c'è un terreno fertile per i servizi segreti ucraini in Russia, loro riescono a trovare e addescare tantissimi giovani, tantissime persone di origine ucraina che magari non sono contenti del fatto che c'è questa guerra, non sostengono per niente la Russia perché loro si sentono ucraini, in Russia hanno trovato magari un benessere economico, un modo di realizzarsi nella società, però hanno sempre questo sentimento negativo nei confronti dei russi, della cultura russa e ovviamente della politica russa, non amano Putin, non amano le sue politiche, non amano la guerra che è cominciata e per questo motivo vengono sfruttati dai servizi, avvicinati dai servizi e vengono sfruttati per, a mio avviso soprattutto per l'informazione, perché noi vediamo che gli ucraini raccolgono tanta informazione, ma in questi casi anche per gli omicidi, per quello che poi abbiamo visto accadere. quindi Vladimir Tartarsky è stato ucciso da una bomba che le ha portato questa signorina, questa Daria Trepova, originaria di Ivano Frankivsk, ucraina, che era in contatto con i cosiddetti, come lei chiamava, giornalisti ucraini che le pagavano chiedendo di fare delle commissioni. adesso Daria Trepova è stata arrestata, a casa sua hanno fatto un blitz gli agenti dei servizi segreti russi, io ovviamente non la invidio, poverina, dovrà passare dei momenti molto brutti e probabilmente finirà in galera, la chiudono lì e buttano via la chiave. Se non proprio vorranno scambiarlo gli ucraini per qualcuno, però secondo me no, secondo me gli ucraini diranno che questo non c'entra niente, che loro non conoscono chi è, non sanno chi è e anzi la notizia che è uscita questa notizia è su un presunto gruppo dei partigiani russi, hanno inventato un movimento, tra l'altro un movimento che non c'è, di questi partigiani che hanno cominciato a colpire, tutta questa cosa mi fa molto di una propaganda che arriva non proprio dall'Ucraina ma dai loro curatori occidentali, secondo me lì dietro ci sono anche gli inglesi, perché noi sappiamo bene che i servizi inglesi amano queste storie, spesso lavorano in questa direzione, quindi a mio avviso è molto probabile che sono proprio gli inglesi ad aver anche ideato questa operazione, soprattutto per dimostrare che in Russia c'è instabilità, che attorno a Putin c'è instabilità e che la società russa è pronta di insorgere. Ciò che a mio avviso non è vero, quello che osservo io è totalmente il contrario, mentre questo episodio fa parte di attentati organizzati da fuori, non dall'interno della società russa. grazie cari amici, se avete domande o qualcosa scrivete nei commenti, io quando ho tempo leggo e se ho tempo vi rispondo, vi mando un forte abbraccio, statemi bene.